Meno due e poi si tireranno le somme. Due partite al termine, 180 minuti decisivi tanto in Serie D quanto in Lega Pro. L'8 maggio sarà game over. Tra lacrime e sorrisi sarà il giorno degli addia alla terza serie nazionale, ma anche il giorno della speranza di rientrare tra i prof dalla finestra dopo un anno durissimo in Serie D attraverso i playoff. Condizione necessaria per avere qualche chance di ripescaggio insieme alla retrocessa dal piano superiore. Quattro, infatti, dovrebbero essere le formazioni ripescate tra quelle scivolate in D e due quelle tirate in Lega Pro tra le vincitrici dei playoff del massimo torneo di lettanti. Tutto questo per riportare il format della Serie C a 60 squadre, 20 per ogni girone, com'era e com'è nelle intenzioni del presidente Gravina, come pare sia nelle corde anche della FIGC del presidente Tavecchio, il quale nell'ultimo consiglio federale ha dato il via libera al nuovo format abbassando, tra l'altro, la fideiussione da 600.000 a 350.000 euro, solo per i club con monte e ingaggi inferiori ad un milione e mezzo. Ancora in stand-by invece la proposta delle squadre B, dei club di Serie A, come accade in Spagna. Formazioni che non avrebbero diritto alla promozione, ma che scenderebbero in campo con l'obiettivo di valorizzare i propri prodotti da offrire poi alle grandi squadre. Possibilità che comunque al momento pare remota, più praticabile, la strada dei sei posti da assegnare attraverso di pescaggi. Obiettivo già dichiarato dalla Vibonese, che avrebbe già stilato un progetto Lega Pro, e dalla Regina, che avrebbe pronto il piano Serie C. Aspettando la qualificazione play-off, ovviamente. Ancora tutta da conquistare. Alessio Bonpasso per la CNews24.